Ascenso, ascenso. Ascenso, ascenso. Ascenso. Ascenso, 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 ascenso. Grazie. 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 Passami. Grazie. 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 Sì. Troppo... Te lo dico. Io sono liberati per dire. Non ho mai imparato le parole. Ma non ho mai d'allorato. No, no. Noi prima di mezzogiorno non ci possiamo muovere. Ci sposteranno poi su un altro gruppo? No, sicuramente. Sicuramente. È pomeriggio o pomeriggio? È pomeriggio, no. Io sono l'aerrore. Sì. 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 grazie 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 la latenza la latenza la latenza lì ma su quello io non ci passo ancora Grazie. 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 Si mua ospoi i ciocchi lezze se laiono pocchi. Faccio semine che se laiono pocchi a coppa o bangare. Grazie. 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 Ciloroopsa i ancora stasi. Ciікanis. Cuore sì. Sì. Unimez습. Sì. Vamos, siamo emails. Grazie a tutti. 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 noi. a tutti. 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 a tutti.